Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo e oggi vi porto una nuova lista GOT, ovvero Anubis Control. Per quanto riguarda questa lista, ci tengo a precisare che l'ho ideata partendo da una lista precedentemente inviatami da Umba. Sono un paio di settimane che appunto la testo, sono prima partito proprio giocando con la versione di Umba e poi sono arrivato alla fine a questa che è invece la mia versione. Ho portato un buon numero comunque sia di cambiamenti alla lista di Umba anche e soprattutto per adattare il mazzo a quello che è un po' il mio stile di gioco. Partiamo con la profile, il main è di 40 carte, partiamo dai mostri con il 2x della fine di Anubis. Il mazzo gioca 5 mostri da tributo di main, chiaramente tutti i mostri che richiedono un solo tributo. Anubis a 3x risulta essere pesante, si potrebbe pensare comunque di mettere il sesto mostro che vedremo di side da tributo di main che sarebbe Jinzo. Il fine di Anubis nega tutti gli effetti che bersagliano carte nel cimitero o che si triggerano nel cimitero. Di conseguenza la salita orina turno quando viene scartato non parte, serpente sinistro non torna, sepoltura prematura, richiamo del posseduto non partono e allo stesso tempo una buona fetta comunque sia di carte problematiche del GOT vengono stoppate da Anubis. Forza esiliata comunque sia inizialmente si triggera col mostro sul cimitero che viene tributato di costo, quindi Forza esiliata parte e i mostri Chaos chiaramente non bersagliano le carte che vanno a bannare ma semplicemente le bannano, quindi non blocca comunque sia i Chaos. È comunque un rispettabilissimo 2005 che richiede un solo tributo e inoltre è appunto oscurità. E queste sue statistiche ci saranno anche utili per una carta che poi vedremo di side. Poi Monopair di Hades, la carta è veramente forte, sostanzialmente tutti i mostri che vengono distrutti da demoni hanno i loro effetti negati quindi entra anche in combo con Anubis che comunque sia è un demone ed è un altro ottimo tributo in quanto volendo passa anche sopra i Monarchi e sopra Sorcio essendo un 2450. Gli ultimi due mostri di tributo che giochiamo di main sono il 2 Per di Mobius, il Monarcha Glaciale. Questo mazzo soffre un pochettino le Backrow, proprio per questo motivo abbiamo un numero superiore alla media di quelli che sono i Backrow Removal e soprattutto chiaramente abbiamo la possibilità di sfruttare i mostri del Loppo per evocare i nostri mostri da tributo quindi anche se eventualmente l'eventuale tributo di turno si becca poi una distruzione sopra comunque sia spesso e volentieri saranno comunque uno scambio eco nel senso che faremo comunque anche il meno uno all'Oppo e comunque sia Mobius è un ottimo removal perché può rimuovere anche solo una carta settata nel caso ce ne fosse solo una. Poi giochiamo un mini reparto Warrior con una DD Warrior Lady, un Assalitore DD, un Cavaliere Lama e una Forza Esiliata. DD Lady, Assalitore DD e Forza Esiliata sono sostanzialmente dei removal per mostri più grossi o per carte problematiche in alcuni casi con la richiesta di beccarsi qualche danno o comunque sia senza beccarsi danno anche se ci sprecano la norma. Mono Blade Knight ho deciso comunque sia di giocare uno mono perché può impedire l'attivazione dei flip. Mono per di Breaker è sempre un altro Backrow Removal e eventualmente può essere un 1.9 che vitta. Per andare direttamente contro i mazzi Chaos giochiamo il 3 per di Kiko di Main. Kiko non parte se abbiamo Anubis sul terreno, cioè nel senso l'Oppo non può rimuovere ma noi non possiamo rimuovere le due carte che sceglieremmo se Anubis è sul terreno. Questo tenetelo a mente, chiaramente non lo può fare neanche l'Oppo. Kiko vuole stoppare comunque sia la possibilità da parte dell'Oppo di andare dentro il reparto Chaos e allo stesso tempo comunque sia è un rispettabilissimo 1.8 che può abitare, quindi molto utile. E appunto lo rendiamo contro il mazzo grazie al 3 per di Tigre Wangu. Tigre Wangu è una carta che blocca molti mazzi comunque sia con mostri piccolini. Non giochiamo alla luce dell'intervento di Main perché la trovo una carta un po' situazionale spesso e volentieri. È vero che con Wangu va tantissimo in combo, però la carta non mi piace perché sei costretto a doverle vedere entrambe per far rendere la combo viva e poi spesso e volentieri quando ti veloce dell'intervento mi sono sempre beccato Tempesta o Tifone. Allo stesso tempo Wangu è una utilissima carta da eventualmente levare di side se ci dovessimo trovare contro Gate oppure se dovessimo trovarci contro mazzi come Monarca o Warrior che chiaramente non soffrono Wangu. Però molti altri mazzi invece la soffrono e può essere comunque sia utilissima e rimane comunque un 1.700. Passiamo al reparto magie, vabbè abbiamo la solita trinità che si spiega da sola. Mono perdi rota, non lo giochiamo a 2 perché comunque giochiamo solo 4 guerrieri principali e di conseguenza sì, bello avere la possibilità di cercarli ma se ad esempio ne partiamo con 2 in mano abbiamo solo 2 target e un secondo rota potrebbe risultare una pescata morta. Per tributare i mostri dell'oppo il 3x di scambio di anime il mazzo può anche tranquillamente non bitare per un turno perché comunque scambio di anime fa un meno 1 sul terreno dell'oppo e chiaramente questa può fungere anche da removal per eventuali mostri grossissimi come i mostri caos e anche chiaramente ci permette di tributare i mostri coperti. Cosa che purtroppo non ci permette di fare controllo della mente però con controllo della mente possiamo anche bitare mentre con appunto scambio di anime non possiamo. Chiaramente controllo della mente ha la clausolina che non ci permette di prendere i mostri coperti perché chiaramente il mostro deve essere scoperto però almeno lo possiamo subito tributare e per questo motivo invece non giochiamo il mind control perché sostanzialmente non potremmo tributare il mostro. Sempre per fregare i mostri dell'oppo ed eventualmente tributarli o comunque sia perché è una carta fortissima del formato il monoper di snatch. Monoper di sepoltura può permetterci di debornare comunque sia un Anubis o comunque sia un altro mostro grosso anche un Mobius o un eventuale removal. L'unico mostro che non può essere rebornato è Adess o allo stesso tempo un mostro da poi tributare per calare invece un mostro da tributo. Sempre back row removal, tempesta e tifone non hanno bisogno di essere spiegati. Due per di nobiluomo dello scambio perché comunque sia i mostri flip sono uno dei mostri, del tipo di mostri più utilizzati nel got nel formato e quindi assolutamente vanno giocati di main. Monoper di libro della luna. È comunque sia una carta che può difenderci, può entrare in combo con il nobiluomo. Per rendere il mazzo leggermente più veloce e giocare con qualche cartina in meno, il due per di rincastro goblin non ci dà troppo fastidio andare a dare qualche light points in più all'oppo perché comunque sia a noi ci interessa arrivare ai nostri removal o alle carte per stoppare le giocate principali dell'oppo. Passando al reparto trappole, il due per del giudizio solenne, non lo gioco a tre perché a tre mi è risultato in alcuni casi pesante oppure potreste decidere di giocarlo a tre cavando appunto la monoper di Dastornado che vedremo fra poco. È sostanzialmente un negate per qualsiasi cosa nel formato. Appunto sempre per il back row removal monoper di Tornado di polvero ho preferito avere un back row removal in più senza dover mettere il terzo solenne perché chiaramente solenne comunque sia a volte ci troviamo a doverlo attivare quando siamo ad 8000 life points e chiaramente da 8000 passare subito a 4000 può risultare un po' dannoso e allo stesso tempo Tornado ci consente di settare un'altra nostra trappola dopo che l'abbiamo tirato e poi removal generici da trappole, mirror, tributo, torrenziale e ring. Questo è il main, 40 carte. Chiaramente mettete sempre 15 carte di extra per non far capire subito all'oppo che usate un mazzo che non usa l'extra e ci tengo adesso a passare alla parte della side proprio per spiegarla contro i vari matchup. Giochiamo il monoper di Jinzo, Jinzo è buonissimo contro tutti gli altri mazzi control e contro tutti i mazzi eventualmente stun. Si potrebbe addirittura invece pensare di giocarlo di main riducendo magari di 2 il ratio delle trappole che giochiamo e magari levando sostanzialmente una qualsiasi altra trappola che prende il suo posto e magari mettendo un'altra magia ulteriore per quindi passare comunque sia sotto le 6 trappole. Sempre meglio essere sotto le 6 trappole se giochiamo Jinzo di main secondo me. E chiaramente fortissimo contro Barn. Sempre contro Barn il 2 per di Wombatodes, niente da dire, utilissimo contro il mazzo e chiaramente va giocato perché comunque Barn può essere una spina nel fianco per moltissimi mazzi. Sempre contro Barn ho mazzi molto trappolosi, insieme al Jinzo generalmente entrano il 3 per di decreto reale e niente da dire, la carta si spiega da sola. Poi contro Warriors a me piace moltissimo giocare Zombira e allo stesso tempo il 2 per di Gorilla Berserk. Non gioco il Soldato Cinetico perché il Soldato Cinetico non passa sopra al Abile Mago Nero. L'Abile Mago Nero è una carta che molti Warriors stanno iniziando a mettere di main, almeno mono, ed è un 1.900 quindi Soldato Cinetico esplode contro di lui. Zombira passa sopra invece anche a lui e chiaramente anche a Blade Knight qualora diventasse un 2.000 e eventualmente il Gorilla si schianta contro un Blade Knight e passa sopra comunque sia anche all'Abile Mago Nero. Proprio per questo motivo ho deciso di giocare il loro 3. In più ho deciso di giocare anche il Virus Devastadeck di Side che può vedere come tributi il Dark Ruler adesso, lo Zombira o anche i due Arubis quindi comunque ha 4 target di mazzo ed eventualmente anche il Jinzo quindi potrebbero diventare potenzialmente 5 target e comunque sia Zombira rimane buono perché è un altro guerriere quindi è addabile di rota e chiaramente contro tutti i mazzi tipo Goat Control il Virus è devastante. Poi contro Reasoning Gate che è un altro matchup veramente veramente tosto, il 2 pair di Sigillo Maledetto della Magia Proibita, il 2 pair di Jogen lo Spiritualista e il Mono pair di Annullatore di Magia. Annullatore di Magia spegne completamente Reasoning Gate, se viene calato sostanzialmente è outwin da solo, Jogen più o meno anche qui e chiaramente Sigillo non è buono solo contro Reasoning Gate ma è anche buonissimo contro mazzi che abusano di Scapegoat o di Metamorfosi perché se la tirate su Metamorfosi e su Scapegoat avete praticamente spento la principale win condition del mazzo. Se temete una Metamorfosi lasciate pure attivare Scapegoat e tiratelo su Metamorfosi perché a quel punto avete vinto la partita. Jogen è buonissimo anche contro mazzi come Zombie, è buonissimo anche contro mazzi come Panda Barn perché evita tutte le special e chiaramente tutti i mazzi che utilizzano comunque sia le magie, non la Torre di Magia e vinci di più. Detto questo ragazzi, un'altra carta che Umba giocava e io ho deciso di levare, Umba ve la metterà probabilmente qui in editing, è Oppressione Reale, una carta che permette di bloccare le special, il mazzo tolta sepoltura prematura non fa sostanzialmente special, di conseguenza può essere un'altra carta per andare a bloccare soprattutto il reparto Chaos e Crane Gate da parte dell'Oppo. Comunque sia il mazzo, testatelo, secondo me è veramente veramente solido, è veramente divertente, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!